Parroco di un paesino, chiedo scusa io non leggo mai ma non ho il contributo, devo leggere, di Capocastello, poveri parrocchiani di Capocastello, poveri irpini, poveri miei corregionali, ve lo raccomando quel parroco, stasera io ospite un vero prete, un vero sacerdote, quello si è un prete, perché il prete irpino pensa se padre Francesco apre le porte al mondo LGBT, io posso fare anche peggio e intanto il paese scivola sempre lentamente ma inesorabilmente verso il fondo, verso il precipizio.